Abbiamo fatto gasolio a Steven, povero povero Steven, e abbiamo fatto il gasolio dei camion. 1,753 euro al litro, abbiamo fatto 73 litri, ce n'era ancora giù un bel po'. Siamo partiti con Steven pieno, e adesso mancano circa 20 chilometri per arrivare in Olanda. Siamo in Olanda! Siamo in Olanda! Benvenuti in Olanda Steven! Ciao polizia olandese! È polizia? Sì, siamo in Olanda! Prima volta nella nostra vita e prima volta di Steven in Olanda! Comunque viaggio a più, abbiamo fatto 169 chilometri. 169 chilometri da casa, sempre inizio viaggio. Benvenuti in Olanda! Siamo arrivati a Utrecht. Qui non bisogna stare attenti alle macchine, bisogna stare attenti alle bici. Esatto. Perché sfrecciano. Abbiamo lasciato Steven nel parcheggio all'ingresso della città, uno dell'ingresso della città. Abbiamo un po' il muso fuori, speriamo che nessuno ci dia la multa. Ci vediamo. Ah, ecco il canale e l'autobus. Uno dei canali. Adesso attraversiamo e attraversiamo il canale, entriamo in città. Cioè, siamo già in città, entriamo nel centro storico. Guardate che bei canali qua. Beh, le città olandesi, un po' tutta l'Olanda, sono caratterizzati dall'acqua. In molti luoghi è stata proprio una battaglia quella degli olandesi per togliere terra, al mare, all'acqua. Utrecht è l'antica capitale delle Fiandre del Sud. E per adesso ci sta piacendo un sacco. Sì, parte i parcheggi. Parte i parcheggi. Un po' piccoli per Steven. Sì, abbiamo rischiato di finire proprio dentro il centro. Un po' sbagliato, ho fatto alle strade, speriamo che arrivi qualche multa. Buon anni. Ai ع atualizzare gli oggi arrucci. Un po' sbagliato come manterzemo solo anche di piccolo, espanso lentamente ci sono, Prima aver fiss Tyl으면內. Sì, abbiamo rimato ogni cosa che farà di piccolo US저ri. Adesso andiamo a mangiare qua, da Olivier, non so come si pronuncia, speriamo di trovare C'entra un organo, è come una piccola chiesa, è una chiesa, dovrebbe esserci proprio un organo dentro Andiamo se c'è posto Allora siamo al Belgique Beer Café Olivier Allora se ho ben capito questa era una chiesa, ora è sconsacrata, infatti vedete là c'è ancora l'organo È spettacolare, è un locale bellissimo, molto grande, però adesso sono anche svelti con il servizio E sembrano molto gentili, vero? Guarda in che posti belli ti porto, eh? Ci piace Utrecht, vero? Sì Ci sta piacendo molto È arrivato anche il cibo, non facciamo proprio proprio un pranzo, ma una smaggiucchiatina veloce Io ho questo toast belga con brie e altre verdurine, oltre all'insalata che c'è di fianco perché è vegetariano Invece Massimo ha... Sì, butter, credo sia burro, con crocchette di carne, senapina e il pane bianco Wow, che buono! Sei sempre ai portoare i gattini? Anche i gattini neolandesi li portoare? Ciao, ciao! Ma che bello! Il patatino! Ma è bellissimo! Ciao, amore! È pure l'osso, che bello! Che bello! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Abbiamo un attimento di mani! Buon attimento di marzo! Undовать iscrivissima!!! Grazie a tutti Questo è il Duomo di Utrecht Sì, questo è il Duomo Certo che il campanile è la ristrutturazione Eh sì, sì, ma tanto non ci saremmo saliti No, no, siamo andati ieri con lo di Colonia C'è assolutamente bastato Mi farò male le gambe già Qua è più basso Questa chiesa è di stampo gotico Adesso vediamo se riusciamo a dare un'occhiatina dentro Poi torniamo su Steven Bella Proprio di fianco al Duomo di Utrecht Potete trovare l'entrata per il giardino di Pandoff E sono questi chiostri bellissimi Con le erbe aromatiche Credo siano gestite comunque dall'università E qui si fanno delle foto splendide Alla parte laterale della chiesa E anche i chiostri che sono bellissimi Grazie a tutti Grazie a tutti. Musica Volevo farvi vedere che in Olanda adorano le carte di credito Il contante è una brutta bestia E anche in chiesa potete donare o prendere il vostro lumino con la carta di credito Sì, c'è la macchinetta con la carta di credito Grazie a tutti. Stephen, ecco Stephen, c'è ancora. Abbiamo paura, abbiamo avuto paura Stephen di non trovarti più, invece c'è ancora. Ecco Stephen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.